Ehi lo giuro, io sono Mezzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Roam. Allora, visto che Daener fa abbastanza schifo come danno, stavo cercando qualcosa che forse se vedessimo una lancia andrebbe meglio. Proviamo a craftare questa e vedere un po' come va il discorso, perché ha proprio bassi come danni, sia Doru che Asta. Ha la Critical Damage 2-4, ok però. Questa qua ha più alto la Critical Damage, ha più alto il Base Damage ed ha anche un Harbor Shred, più 2 Random Mafics e 3 Weapon Skills. Up 2. Per cui direi non male. Sì, dobbiamo assegnare uno e assegniamo quest'uomo. Poi lo Speculator Tent direi che ce ne serve un altro, perché ricordiamoci di farlo tro un attimo, perché adesso devo andare a preparare le robe della Speculator Tent. Se è della prima legge prima italica, non ti ricordo della Grecia. ero qui, ma avevamo un po' di rinforza di parlare tu sei dato la commande di Wictrix prima che ci siamo conosciuti ero ritirato prima della morte di Lucullus quando ho sentito cosa ha fatto, ho vissuto di trovarti ho molti amici tra i Berberi alcuni di loro hanno accettato aiutarti a fare la passione sei amico di Ignazio Naso? siamo amico da l'ora del giorno abbiamo parlato regolari quando stavamo gestionando le affaire di oggi e logistiche dei nostri legioni ma non mi ha dato nulla nemmeno che lo ha dato ma non mi ha dato nulla io parlare liberamente tu sei un grande comandante e un heirlo di Lucullus ma inoltre delle vostre vittorie tu sei ancora inesperienza tu spendi molto tempo per viaggiare con il vostro contabernium e'le e'le la mia posizione come legattus io admiro questo, come gli uomini ma se volete perdere il mio credito tu devi fare più per aiutare i loro e rendere loro come ragazzi io sono contento che ho sentito questa attitudine è parte di quello che Lucullus ha visto in te, credo in mio opinione tu hai bisogno di una banner Un ordine che puoi imparare nel campo di battaglia per rilassare le persone. Posso te insegnare come creare un bannero che ha chiamato Mars. Il tipo di simbolo può rilassare la città di ogni combattimento. Spero, ma devo chiedere di pagamento. Non ho ricevuto la piena di legione. Ho una figlia e i bambini, L'Agati. Deve mangiare. Farei così. Vabbè, è vero tu finirà l'Africa per chiederci dei soldi. Praticamente. Allora, cos'è che hanno? Molte razioni e poche medicine. Se ti vendessi delle medicine? Bene. Siamo felici. Abbiamo bisogno di un sacco di soldi. Vagonate di soldi qua proprio. Allora. Allora. Free. Free. E poi dobbiamo fare altri. Ehm... Quindi se parliamo con Giulia. Ehm... 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 Sì, sei molto... le varie assolutamente le piene. Ehm... no, no, vediamo. Eh, non ti preoccupare, cari dell'Egitto pagherà per quello che ha fatto lo culo. Si è scomparsa dopo quella campagna a Enesi minore. Dove sei stato tutti questi anni? E... odiavi così tanto in quel posto? Non mi preoccupare la città, sono le persone in qui che ho problemi. Hai mai visto, ho visitato lo culo in Africa? Ho voluto, ma ho sempre dettagliato il viaggio. E ora è troppo tardi. Penso che nessuno si può riuscire dal tempo. Mi piace l'Africa, però. Il sole brillante mi dà una razza per mantenere il mio cuore. E il caldo misura il movimento. Spero che fosse una troppola. Certamente. Ma non sono sicura se fosse pensato per noi. Questo significerà una grande strategia e qualche pensamento seriosi. Questo livello di troppo, però? Credo che il nostro arrivo potrebbe abbastanza disruzione certe cose. Cos'è il consiglio? Cos'è il consiglio? Cos'è il consiglio? Vi diclo, patron? Ovviamente non. E tu seri un uomo se la tua intenzione fosse di mettere la tua fiducia in lei. Quella uomo è un predatorio. Non ha senso. Sembra che lei ti utilizza. Non fai per le sue trucche. Cosa dovrei fare? Penso che la corte... La corte of heaven possa servirci come un accampamento. È successo che siamo arrivati durante questo festivale. o quale sia. Abbiamo tutte le persone importanti in un posto. Ma tenete in mente che questa è la loro terra. La corte of heaven è un hub di attività in uncontrollato. Non c'è chi viene e chi viene e chi viene e quali sono le intenzioni. Ci sta. Ci sta. In Outpost Management dobbiamo mettere il tizio che ci riempia la speculator tent. C'è qualcuno che è scontente in questo momento che dobbiamo mettere il tizio a chicchierare ai bagni? No. Ehm... Ah, dobbiamo mettere i tizi a... A medicarsi. Cioè, bestie più che altro. 90 ore. Peppetta. Allora, qua possiamo andare o per il mura, ma noi vogliamo questo. Quindi dobbiamo aspettare un attimo. Tanto, comunque, mentre ero off camera, ho scoperto che stanno per attaccarci qui. Per cui... Ehm... Banner of Mars. Ok. Quello che ci ha dato il tizio. Abbiamo bisogno di un po' più di soldi. Abbiamo neanche 10k. Vabbè. Pian pianino. Allora, adesso dobbiamo aspettare che arrivino i tizi. Non so se è una ricostruzione verosimile di una sacerdotessa questa, eh. Molto graziosa. Ma non so quanto è verosimile. Allora, la legione l'ho mandata, tra l'altro, a prendere l'altro pezzetto qua, se non ricordo male. Quanto è che ci metterò più che altro da arrivare quei tizi. Spero di più. Quanto ci metterà la legione a tornare. Perché qua non siamo messi via i soldi. Il problema è che dobbiamo fare tutte le robe, quelle da legione. Adesso arrivano. Non ho messo a craftare la roba? I giavellotti? Ho comprato tutta quella roba di giavellotti per farceli e adesso non ce l'abbiamo. No. Ne facciamo poi, adesso prendiamo un po' di provvista ma lasciamo per quelli dopo. Ok, dieci razioni che non è chissà che cosa, ma... Chi è che ha degli unspent skill point? Ah, questo. Lucio Fabio. Perché Lucio Fabio è salito di livello così a caso? Boh. Ehhhh. Ehhhh. Deathblow? Arrivano? Yes, stanno arrivando. Vai, direi un attimo. Ehhhh. Mi sa che non è ancora pronto, ma... E' un attimo. Allora. Per quanto riguarda l'ultimo episodio che registro oggi. Ehm. Andiamo l'aspetto per essere un attimo. Che uscire tutto. Che uscire. Che uscire tutto! Ok, ehm. speculator l'ha finito ma lui è ancora che deve essere curato dobbiamo fare i giovellotti arco l'hanno fatto probabilmente tactical a banner of mars cos'è ci manca però da più danno non è male allora quale farei due tre quattro farei e gli altri erano che erano per fare cose da lancio non ha il mulsum ecco perché serviva il miele non possiamo fare gli upgrade qua e dove assegnare il tizio io questo per recuperare lancia via il mio request e tenuto ora di produzione sono self e quindi 9 un amor spread tutta sta roba non è tutta sta roba hai tratto non puoi anche usarla perché princeps no no cioè lei può usare solo spade e spear non pike non pic però lancia in italiano spear e lancia un po' di contrasto e oh niente 5 9 se ne forgiassimo una nuova quindi sono solo i quelli supporti che possono fare shred di armor mi sa perché allora qua abbiamo doro che comunque ce la farebbe più scarsa di quello che abbiamo magari possiamo modificare magari possiamo modificare no non possiamo neanche modificare brutta storia farà sempre pochi danni quindi della nera questo dio delle cose al mercato che ci può vendere si devo denari e gli mancano gli schiavi vendiamo gli schiavi per denari e ci schiavi per 60 ci sto siamo divenendo un po' di provviste e di soldi tra l'altro dovremo spendere soldi per per rinforzare l'esercito adesso che ci attaccano mi sa anche se no no non abbiamo sbloccato walls per cui no andiamo cosa possiamo andare a fare poi giù c'è niente andiamo qua ecco lì allora questo ci porterebbe a aumentare 1 e 1 un po' più scarso e l'ultimo la città ah no player defense ehm ehm normale andiamo con questo dai aia meno 3 ci da un sacco di guai eh mi sa che dobbiamo contrastare questo meno 3 però ci abbassa anche il cavallo però ehm il meno 2 del cavallo non ci porta a un guaio è che gli altri abbassano ancora il a questo porterebbe a 0 e a 5 5 ci do qualcosa no però diminuisce ancora di 1 quello però proviamoci Archeum Latius extendete l'uomo che abbassano ancora di più il coso della catapulta porca e 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 ci devi riscorrere lo scudo tutti e 3 andrei con questo tanto con gli ultimi update non c'è più l'affare di scatter dei nemici 4 4 meno 4 ci da 4 e 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 Provavo ad aumentare la panteria, ma non è andata bene. Stai che non sono arrivati in molti. Ma ci tolgono tantissimo. E alcuni sono spariti. E' sceso il morale. E' scommesso. E' proprio perso un sacco di gente. E' scommesso. E' scommesso. E' scommesso. E' scommesso. E' scommesso. E' scommesso. Però allora la missione è cosa che diceva Vediamo su questo, su Jaller Andiamo oltre No, sta per arrivare l'assalto Per cui direi che chiudiamo così l'episodio Io vi invito come al solito Lasciami un piaccio, un commento qua sotto E iscriviti per caso lo sia già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti e buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti